Ammonta a 215.000 euro il costo degli interventi di somma urgenza per il ripristino della sicurezza nel tratto della statale della Val Cannobina in cui venerdì 12 luglio è caduta una frana. La Giunta di Cannobio ha deliberato distanziare questa cifra, prelevandola dall'avanzo di amministrazione 2023, in attesa che la Regione si esprima sulla richiesta di contributo straordinario già presentata. News 24, la tua nuova TV locale.